Musica Buonasera, ben trovati. Il primo aprile 2019 è stato celebrato Sunrise Mattias, la quarta edizione di questo evento stellato, inserito nella più nota schieda. Questa sera ne parleremo con i protagonisti di questa manifestazione, ve li presento subito. Ho il piacere di avere in studio una parata di chef stellati, a cominciare da Giancarlo Morelli. Buonasera, bentornati. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera agli spettatori di questa meravigliosa trasmissione. Buonasera, che dire, giornata oggi che abbiamo trascorso bellissima tutti assieme e questa sera ci troviamo qua a fare salotto con te, vedremo un po' cosa salta fuori da questa nostra serata, no? Certo, avremo tante cose da raccontare, lo faremo anche con Alessandro Negrini, bentornato. Buonasera a tutti. Abbiamo il piacere di avere anche Stefano Masanti. Buonasera. Benvenuto Stefano. Abbiamo Alessandro Gilmozzi. Buonasera, grazie per l'invito. E naturalmente Claudio Prandi. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Chiedo subito a Claudio Prandi di spiegare brevemente ai nostri telespettatori come è nata questa manifestazione. La manifestazione è stata ideata da un grande chef, da un amico di tutti noi, Mattias Peris, comparso prematuramente a 46 anni, era il 2015. È stato un grande shock, ha lasciato un grande vuoto, ma ha anche lasciato in eredità una grande manifestazione, uno spirito di coesione e di amicizia senza uguali. Ho detto bene, chef? Sì, ha detto perfettamente bene. Mattias purtroppo dopo averci lasciato ha lasciato anche degli eredi che hanno capito quello che era la sua filosofia di vedere il lavoro del cuoco e di vedere le manifestazioni da fare per gli ospiti che arrivano a Livigno. E sono ormai tre anni che le facciamo senza di lui e dirò che ogni anno è sempre un'aspettativa maggiore ma con risultati enormi, molto belli e molto significativi. Mattias ha lasciato questo impegno, chiamiamolo impegno, che ci ha trasmesso, ci ha lasciato, ma noi cerchiamo di coglierlo al meglio e portarlo avanti per più tempo possibile, sperando di riuscirci. Ma vedo che ci sono dei personaggi, dei grandi personaggi operativi che preparano le loro degustazioni mattutine per la colazione e speriamo che anche loro tengano ben presente questo spirito e andiamo avanti. Ecco, quest'anno è stata cambiata la location, è stata scelta questa piccola valle sull'altro versante di Livigno, le prime tre edizioni erano state organizzate sul versante Mottolino, quest'anno sul versante Carosello. Il sole e il clima erano assolutamente piacevoli? Beh, quest'anno il tempo ci ha baciato non solo per questo giorno ma una cosa eccezionale. Di là, quest'anno non possiamo far paragoni perché l'anno scorso è stato un tempo molto particolare dal lato negativo, quest'anno molto particolare dal lato positivo. Niente, cioè, tutti e due posti sono due posti veramente belli, veramente che meritano di portare avanti questo evento o di qua o di là, ma li portate che si faccia. Certo, e anche Alessandro Gilmozzi non è voluto mancare neppure quest'anno, questa è una manifestazione che anche per uno dei più noti chef di montagna ha un sapore speciale. Sicuramente per me è un onore esserci e finché ci sarà la forza di sostenere l'associazione per Mattias, l'associazione Mattias che fa tanto anche per la formazione, per i ragazzi, che è quello lo scopo principale, ma soprattutto ha lasciato un segno indelebile Mattias che è quello di far rete, la nostra unione tra amici per ricordare lui e quello che si può fare per il futuro dei nostri ragazzi. Quindi per me è un onore esserci, è una piacevolezza proprio. Che clima si respirava il primo aprile alla Sunrise? Ma il clima era stupendo perché era un clima di amici, l'anno scorso era un po' più freddo oggi, ci ha baciato il sole e quindi Mattias ci ha regalato questa splendida giornata, ma un clima così si trova da poche parti. Stefano Masanti, una location speciale, contornati dalla natura e anche, per così dire, coccolati da un gruppo di volontari e di amici che hanno cercato di accogliervi in maniera, credo, esemplare. Sicuramente sì, volontari e amici senza i quali non avremmo fatto niente, cioè il grande applauso va a loro, noi alla fine abbiamo cucinato il nostro piatto, ma l'organizzazione che sta dietro a questo tipo di evento è mostruosa, veramente bravissima. Alessandro? Sono d'accordo con Stefano e si rimane molto colpiti dall'entusiasmo che ogni anno si perpetua verso questa manifestazione che dà adito proprio al gruppo nostro, dell'associazione, ma anche al pubblico di vedere l'entusiasmo. Di vedere l'entusiasmo e quando c'è l'entusiasmo c'è quel fascino anche da parte del cliente, perché anche oggi con le sculture di ghiaccio, con i nostri nomi, con le location, è stato veramente bello, è stato proprio un'emozione poter vedere queste opere d'arte con la neve, quindi un'organizzazione che ogni anno migliora di anno in anno. E quindi questo fa ben sperare per le prossime edizioni, anzi che noi, se ne parlava prima, a quattro occhi, vorremmo addirittura implementare, ci piacerebbe addirittura dare anche qualcosa in più, nel senso che, secondo me, al di là del fatto che l'organizzazione dimostra che ogni anno migliora, secondo noi abbiamo offerto noi anche la possibilità di dare qualcosa in più, ad esempio organizzare una cena di gala il giorno prima o una discussione intorno a un prodotto di montagna, cioè portare il pubblico a ragionare ancora meglio verso un tema che a Mattias era caro, cioè la montagna. Qui ci sono cuochi che vivono e lavorano in montagna e quindi vale il doppio questo ragionamento. Quindi viva Mattias, ma soprattutto viva l'entusiasmo che aumenta verso questo. Come diceva Alessandro, sarebbe bello poter allargare comunque questa manifestazione, ampliarla e magari aggiungerci un evento. Sei d'accordo? Sono d'accordo, sono d'accordissimo su questa cosa. Aggiungere una o più, diciamo, lavori, laboratori, cena di gala, così sono d'accordo. Però ritengo che non è per pochi, perché oggi abbiamo avuto quasi 250 o 270 persone, adesso non so quante, non sono proprio poche da portare in cima a una montagna alla mattina alle 6. Credo che assolutamente. Se vogliamo, io sono sempre per una cosa, la qualità deve essere sempre un po' tenuta al centro. Io ho paura sempre, quando si esagera, di perdere poi l'entità della qualità. L'entità della qualità, siccome noi stiamo in questo momento ricordando una persona che per lui la qualità era l'assoluto, noi non possiamo permetterci di andare e sbagliare. Noi l'anno scorso abbiamo avuto delle grandi difficoltà, ma sono state dettate solo e soprattutto dal tempo. Dal freddo. Dal freddo, perché c'era il freddo e il vento che non ci ha aiutato purtroppo. Quest'anno, dopo tante preghiere che le abbiamo fatto, ci ha ridato quello che non ci ha dato l'anno scorso. Perciò abbiamo capito che questo è il numero giusto. Giustamente Alessandro dice, facciamo una cena di gala, facciamo qualche cos'altro, ma che rispecchi sempre e soprattutto la qualità. Perché noi non dimentichiamoci che stiamo facendo qualche cosa perché poi serva a qualcun altro per crescere. Perché Mattias voleva che questo pensiero fosse trasmesso sempre di più ai ragazzi che si appassionassero sempre di più alla cucina e al territorio. Noi siamo qui soprattutto per portare avanti il suo pensiero perché questo è il nostro compito e cercare proprio di valorizzare questa cosa che lui ha voluto fortemente e poi purtroppo ci ha lasciato perché se ne è voluto andare, se ne è andato e ci ha lasciato con questa patata qua da gestire. Però non in vano perché sembra quasi che abbia tracciato un percorso. Lui secondo me a questo punto ha tracciato un percorso e dove effettivamente ci ha raggruppato e ci ha detto adesso forza ragazzi mi hai dato una mano a portare avanti questa cosa. Tante volte purtroppo per riuscire a far rete deve sempre succedere qualche cosa che ci scuote e qualche cosa dentro e lui è riuscito a farlo in modo molto forte. Tutti gli anni la rifacciamo e tutti gli anni è sempre meglio a livello organizzativo però il tema rimane sempre alla colazione e va benissimo. Quello che intendevo dire io è che siamo in Lombardia, siamo a Livigno, siamo in Valtellina potrebbe, visto anche le Olimpiadi che verranno, nel senso forse passo dopo passo potrebbe diventare un appuntamento importante di discussione, non sai che la pensiamo uguale in quanto ormai la cucina diventa talmente immediata che non serve. Noi vogliamo che si mantenga questo filo di alto profilo che dice giustamente Giancarlo e sono pienamente d'accordo però magari... Che nasca la discussione sul tema. Voglio dire Stefano fa una presa alla straordinaria e vive in montagna, lui usa le erbe, cioè Claudio il lago, cioè io la città, cioè voglio dire si può parlare di Lombardia, la Lombardia che è una regione ricca, una regione ricca e la Valtellina che è la montagna della Lombardia secondo me si potrebbe fare qualcosina di più per la cucina alpina, io non dico che qui succederà chissà cosa, però un piccolo passo, io non credo più ormai alle rivoluzioni perché non si fanno, ma un piccolo passo, un piccolo passo verso un impegno anche istituzionale perché ripeto, scusate se insisto su questa cosa che è la montagna della Lombardia cioè voglio dire ci saranno le possibilità per organizzare qualcosa di un po' più complesso che non vuol dire fare un paraghiaccio del prosciutto, io dico fare un incontro un po' più magari sempre con lo spirito dell'associazione Scuola Berghiera, basterebbe quello no? Masanti che viene da Madesimo che è una delle più belle località della Lombardia e che è una località molto piccola e dove parlare di cucina e di alta cucina non è stato facile e quindi non l'è ancora adesso e conosceva anche molto bene le tematiche del nostro Mattias che peraltro in una stazione così grande comunque viveva un po' le stesse problematiche se vogliamo Sì perché probabilmente è un discorso che abbiamo tracciato probabilmente un discorso che in provincia di Sondrio era molto difficile da affrontare siamo andati, lui non a caso ricordo il suo famoso articolo il nemico del pizzocchero che aveva scatenato un disastro in provincia di Sondrio e io l'avevo chiamato, lui se la rideva perché l'aveva concordata questa cosa ma non era assolutamente contro nessuno, lui voleva in quel momento lì provocare e far capire che la provincia di Sondrio non è solo pizzoccheri o bresaola ma è fatta di centinaia di prodotti, centinaia di possibilità, di combinazioni possibili e quindi passavamo giornate intere anche a sfotterci tipo quanti coperti hai fatto tu oggi nel liceo 2 e mi diceva che oggi io ho fatto più del doppio di te, ne ho fatti 5 era anche un sostenersi a vicenda e un darsi anche coraggio perché ogni tanto c'erano anche momenti un po' Livigno piena, 4 coperti, Madesimo piena, 3 coperti e quindi... è stato difficile è stato, ripeto è ancora difficile però di grande soddisfazione poi alla fine tant'è che la cosa più bella che ricordo io in generale è che abbiamo preso la stella assieme abbiamo fatto tutto insieme, un percorso di quasi 10 anni, stesso anno e tra l'altro ci facevamo degli scherzi tremendi lui mi ha prenotato con gli amici Canepari e Paradiso, ho fatto uno scherzo la settimana dopo la mia chiusura mi ha prenotato la cena del fine stagione dell'hotel Paradiso ok, io avevo già chiuso però avevo così piacere di avere degli alberi di Livigno che venivano a casa mia, c'è proprio il piacere di averli ho detto va bene, allora guarda io tra l'altro avevo un corso a Brescia ho detto guarda arriverò su alle 8, vi mando il menù e poi decidete aspetta, due giorni prima mi chiama e lui mi dice sai sto mettendo giù la carta dell'estate e mi elenca i miei piatti e io dico cari ma questi qui sono i miei piatti c'è tutto contento, scusa ma hai lì il menù che ho dato a Sara lui dice eh sì sai è uno scherzo non viene nessuno, avevo comprato tutto avevo chiuso, finita stagione allora quell'estate lì lui adorava, c'era quel periodo lui era innamorato della cucina di Carlo Cracco e allora io ho chiamato lui al cellulare solito quanti coperti, oggi non va bene eccetera e ho fatto chiamare un mio amico, Manuela, prenotandolo a me di Carlo Cracco dopo dieci minuti lui mi richiama oh viene Carlo Cracco, gaslatissimo il giorno prima, il giorno prima l'ho fatto chiamare, stessa scena, richiamo io mio amico chiama lui e dice, chiama Manuela e dice setta io però voglio essere sicuro che ci sia Chef Mattias perché mi hanno parlato tutti della sua cucina e quindi vorrei essere sicuro che ci sia Mattias mi richiama, oh arriva, ha chiesto di me, era gaslatissimo ha mandato tutti i ragazzi a tagliare i capelli gli ha fatto smontare la cucina, pulire tutto, fiori eccetera me la siete resa per bene ha chiamato Andrea Galli, gli ha detto vieni al ristorante che c'è Carlo Cracco eccetera e poi gli ho mandato sul mio amico con una foto di un giornale in copertina c'era Carlo e gli ho scritto, gli ho fatto io l'autografo, tanti saluti da madesimo Carlo Cracco e facevamo questi scherzi quindi quando abbiamo preso la stella, quando abbiamo preso la stella io l'ho avuta sul cellulare perché mi hanno mandato una mail e ci ho messo un attimo e ho detto, cavoli mi ha fregato che stavolta allora ho chiamato lui e gli ho detto, te ma Mattias hai preso la stella lui come mi ha sentito, te oh cavoli mi ha fatto lo scherzo e lui dice, no no niente, non è successo niente ha messo giù il telefono e dice, tutti e due ha detto, cavoli mi ha fatto lo scherzo poi a mezzogiorno ci ha chiamato Elio Grisalberti ma no siete contenti che ti ha preso la stella e pensavamo che fosse lo scherzo dell'altro insieme insieme, una cosa bellissima Alessandra come hai conosciuto Mattias? Ma io l'ho conosciuto venendoci a mangiare ma l'ho conosciuto sempre dopo La faccenda del pizzocero La faccenda del pizzocero che lui aveva visto in me un alleato potentissimo E avete scatenato le ire di tutti i valtellini E lì l'ho conosciuto Ti ricordi quando è stato? Eh, 2011 secondo me Comunque dopo questa vicenda in Valtellina sul pizzocero si è ragionato diversamente ma non tanto perché il pizzocero poteva essere rielaborato ma perché quanto meno il pizzocero quello che veniva venduto nei luoghi tradizionali fosse fatto con un certo criterio per cui la spinta dell'accademia Io vedo, ho fatto adesso un video su Giallo Zafferano un canale YouTube e l'ho studiato molto bene che è inattaccabile nel senso che è preciso cioè voglio dire è talmente preciso e inopinabile nel senso che anche i termini in latteria va bene anche il casesso ho detto delle robe la verde che perché secondo me la cucina valtellinese in sé è come dice Stefano è straordinaria però ha comunque bisogno di sollecitare essere sollecitata cioè ha bisogno di essere sempre dai parti dei cuochi che forse Mattias che era un talibano chiamiamolo così perché era anche un po' aggressivo nel contro la situazione infatti quando fece quella polemica mi chiamò ma ragionando poi con questo anno di poi sono cose che portano bene magari portano meno bene a chi le fa perché poi viene considerato un polemico però nella realtà dei fatti l'alta ristorazione fa un passo avanti e la media ristorazione fa un passettino è come se vai al salone dell'automobile e dici nero vedi le macchine e gli dici ma questa qui non la guiderà mai nessuno poi fra dieci anni si ispireranno cioè quindi l'alta ristorazione non fa nient'altro che tracciare delle vie come nell'alpinismo tracci delle vie che poi le persone non mai percorrono però certo la cucina di montagna ovviamente questo percorso lo fa in modalità più tortuosa comunque è più difficile io mi ricordo mi ricordo perché quando scusa quando ci fu la polemica qualcuno disse ma la cucina di montagna è eroica e hanno ragione attenzione non ho mai detto questo perché quando c'è i clienti che vengono il weekend è difficile comporre un menù e avere la reperibilità degli ingredienti così no su alti e bassi è più difficile che avere paradossalmente 30 coperti tutti i giorni era uno dei temi anche di Mattias quello della reperibilità del cibo avevate cercato di creare una rete tra piccoli produttori per avere i prodotti di nicchia avevamo cercato di recuperare poi sfocciata in slow cooking da quale poi lui si è dissociato per motivi suoi ovviamente era un solista Mattias quindi slow cooking c'è ancora e sono anzi si è allargata però l'idea era nobile perché l'idea nobile tra l'altro funziona alla fine secondo me manca ancora in provincia di Sondrio un po' di coraggio cioè è vero sì il pizzocchero te lo chiedono tutti però usiamolo come come strumento per poi far assaggiare anche altro non come l'unico prodotto secondo me in Francia c'è il menù c'è il piatto signor tu dello chef secondo me questa area deve avere il signor tu dish che è questo che sarebbe dovrebbe essere inattaccabile come dici tu che dappertutto dovrebbe essere inattaccabile e diventare proprio un biglietto da visita per il resto del mondo perché alla fine questo è un piatto così infinitamente internazionale che quando tu lo proponi diventa veramente una cosa che piace in modo pazzesco io mi sono permesso di usarlo nei miei viaggi in giro per il mondo e per le ambasciate perché credo che io mi sento lombardo è un lombardo radicato e per me la valtellina come diceva prima lui ha dato tantissimo e ha un sacco da dare perché ma questo signor tu gli dici è un piatto che tu quando lo fai assaggiare io l'ho fatto a Lima in ambasciata impazziscono impazziti impazziti cioè poi non le patate è buone così diciamo che adesso però su questo si sta lavorando nascono queste nicche di produttori si lavora sulla segale il ritorno della segale Alivini è stato fatto un progetto in tal senso proprio per produrre la farina di segale hanno affittato e acquistato la produzione intera per avere la farina autoctona e quindi quindi dalle valli limitrofe dove cresce tutti i ristoranti valterinesi che fanno pizzocchi usassero formaggio valterinese avremmo risolto il problema delle nostre laterie e quando è finito il formaggio cambia il piatto hanno lo stesso problema al sud quando Gennaro nostro collega dice disse dieci anni fa e adesso è cambiato e io mi ricordo una festa di Vico dice se le pizzerie cominciassero a utilizzare il prodotto di qualità leggermente più alta ci sarebbe un movimento di prodotto agroalimentare italiano straordinario perché poi i volumi delle pizzerie sono diversi da quelle delle altre ristorazioni quindi voglio dire l'impegno infatti forse forse però la lancio così bisogna anche cominciare a pensare a una ristorazione visto che qui tutti facciamo oltre all'altra ristorazione abbiamo le seconde linee giusto che le abbiamo fatte pensando se sono ammazzanti quando vai in America il di costo è avendo una seconda linea ma non è che nella seconda linea usi le cose schifose cioè la seconda linea è un metodo per avvicinare io ho un bistro a Milano in cui il cliente spende meno decisamente meno un quinto volendo e mangia ovvio che non mangerà lo scampone mangia le verdure però si affascina comunque a un mondo e poi lo stesso cliente magari una volta all'anno decide mi conosce tramite quel mezzo e forse anche la cucina di montagna dove è il turista turista semplice io ero al Monte Barro prima di salire qui vicino a Lecco sono salito su c'è un eremo su gestito da Lega Ambiente bellissimo c'è un ristorantino fanno una cucina semplice voglio dire location bellissima perché poi la montagna ti dà quel fascino che dici tu vai in certi posti e dici wow e noi sempre diciamo se qui facessimo un ristorante mega galattico finiamo con non verrebbe nessuno perché voglio dire perché chi è che va fino su no? non sei mica allora dovresti fare una cucina non dite così la polenta fatta bene no? Alessandro non dite così anche perché Alessandro Gilmozzi ha avuto le sue belle difficoltà all'inizio della sua carriera a impostare la cucina nonostante venga da una terra di grande cultura no? ma sicuramente perché io quando sono partito nel 1990 facevo la cucina tradizionale che faccio tuttora dopo mi sono spostato sulla ricerca e quindi è stato necessario avere una rete di contadini di produttori è stato necessario prima da solo adesso si stanno formando dei piccoli consorzi che collaborano anche con albergatori quindi è stato fatto una rete precisa per la qualità dei prodotti di montagna con grande difficoltà perché all'inizio pagavamo un prodotto se parliamo di agnello di tingola che è quello che mi viene in mente ora visto che siamo vicini alla Pasqua prima io lo pagavo un valore aggiunto per avere l'agnello perfetto e lo pagavo molto di più adesso c'è l'equilibrio anche del prezzo e quindi queste cose qua fatte come le facci tu facci il mirtilo cioè anche i frutti selvatici raccolti da raccoglitori abbiamo contadini che fanno anche i piccoli frutti e quindi sono nati dei consorzi come Sant'Orsola ma ci sono anche i contadini più piccoli che ti danno una qualità ancora maggiore e tu hai anche una pizzeria? io ho anche una pizzeria ho un bistro una pizzeria e il ristorante gourmet e come Mattias è un esperto di erbe quindi cerca indaga sul territorio? sì io mi sono diciamo che mi sono focalizzato tantissimo sulla botanica anche per una fortuna diciamo di famiglia perché mia zia era botanica per passione nonno micologo raccoglieva le resine quindi ci sono entrato di prepotenza quindi piano piano è entrata nel mio non dico nel DNA ma ma i clienti venivano subito e entravano subito anche con quando i prezzi sono cambiati avete avuto subito successo? allora il mio primo anno di stella è stato l'anno che ho lavorato meno quindi è stato un po' un dramma per me perché quando ho preso la stella dico boh se la stella fa questo forse devo fare un passo indietro però diciamo che è stata una transazione forse la gente pensava che alzassi i prezzi invece è stata una transazione dopo è cominciata la vera comunicazione ma soprattutto il bello da quando abbiamo fatto queste reti è la comunicazione che abbiamo col territorio con i contadini con i casari con con chi ci porta il latte chi ci fa le uova questo è il bello c'è già una rete naturale c'è già una rete sì e questo è nato anche io quando ho conosciuto Mattia nel 2002 si parlava già l'ho conosciuto a San Sebastian assieme a Stefano e si parlava già di queste piccole reti che noi privatamente facevamo adesso chiaramente sono diventati anche dei progetti interessanti mi viene in mente il progetto di Norbert Ethical che è una cosa importantissima sono bravissimi e questo è importante perché sono delle reti che fanno anche formazione sul territorio quindi non basta un bravo chef e un ristorante che funziona serve un territorio un territorio che marcia nella stessa direzione sì potrebbe raccontarci anche in senso per esempio Kerr Norbert e con Morelli perché poi nasce da un'idea condivisa anche alla loro voglio dire sarebbe bello fare una delegazione a Valtellinese che va a Kerr e cerca di captare cosa accade cioè voglio dire quando il buon Masanti e Mattias prendevano la loro macchina all'aereo andavano a San Sebastian di andare a parare parare è una parola brutta però di andare a prendere qualcosa a portare in Valtellina e non è che la regione Valtellinese gli diceva ti pago il biglietto perché vai là ma facevano le loro spese questo è che il pubblico deve capire cioè che i cuochi che hanno la curiosità vanno a proprie spese a cercare di riportarne il territorio non è che bisogna dargli il premio però è evidente che serve e siccome ci sono già quello il lavoro fatto da Morelli Norbert e altri e anche a Girmozzi su Tirolo la Valtellina non deve dire ma noi cosa andiamo là vediamo cosa accade capiamo riportiamo qui perché delle volte si pensa di essere dei nuclei così solitari ma chissà cosa accade anche in Austria in Svizzera dove sicuramente certe problematiche di cibo le hanno avute anche loro io prendo per esempio io sono dalla Valmanenco e quando due o tre anni fa fecero un investimento molto cospicuo economicamente su una pista da sci a mille metri d'altezza più di una persona disse ma cavolo ma non hanno chiesto infatti non nevica più a mille metri voglio dire quindi prima di fare un investimento di quel genere pensare se poi nevicherà a quelle quote basta fare un'indagine la neve sale sempre di più quindi voglio dire la montagna ha bisogno di persone purtroppo le persone di montagna sono grossi lavoratori però essendo un po' chiusi un po' chiusi come non come mentalità ma proprio di persone io e i miei genitori sono persone chiuse che i cuori i grandi lavoratori ma più chiuse hanno bisogno di persone che magari viaggiando un po' di più essendo sempre in territorio portino un po' di apertura oggi credo che Prandi forse può testimoniarlo ci sono tanti giovani che che si muovono per esempio l'associazione locale è un'associazione molto viva che si interessa si documenta cerca di andare e di capire e anche in qualche modo di impostare lavoro in modalità diversa certo nelle strutture alberghiere è difficile come ha fatto lei pluristellato portare ristoranti di alti livelli se non vi è una condivisione di intenti tra chi lavora in cucina e chi gestisce bisogna anche un po' convincere non solo proprio i cuochi ma no beh sicuramente e dirò che comunque nel 1980 era più facile avere queste opportunità distinguersi distinguersi perché c'erano pochi ristoranti di un certo livello perché noi ne contavamo 30 35 di ristoranti in Italia di due stelle tre stelle e qualcuno qualcuno in più con una stella e oggi ne abbiamo 350 360 quindi la cultura è cresciuta è tutto è cresciuto i giovani oggi sono più aperti c'è un mondo molto più aperto un mondo dove ci si può andare in giro comodamente una volta i mezzi di trasporto erano un po' diversi di quello che è adesso la mentalità era più ristretta non c'era una mentalità così aperta il cuoco per fare il cuoco dovevi rubare il mestiere perché facevi fatica non ti faceva vedere cosa faceva dovevi proprio andare via far finta di passare e captare quello che faceva esatto ognuno era geloso dei propri segreti non venivano trasmessi però vi è anche un altro aspetto perché la formazione è necessaria per i giovani ma la formazione è necessaria per tutti è continua bisogna continuamente aggiornarsi documentarsi quando uno deve gestire una piccola attività come faceva Mattias non è così semplice prendere lasciare l'attività andare a viaggiare muoversi devi chiudere quanti viaggi facevate terribili andate e ritorno senza dormire no senza dormire senza dormire senza dormire tanti siamo andati non lo so tanti ogni anno dappertutto siamo andati una volta addirittura siamo andati a fare quando abbiamo fondato Chic associazione di cuochi Charmi Italian Chefs abbiamo fatto la presentazione a Noli da Giuseppe Ricchevono in una chiesa bellissima la location allora io e Mattia siamo partiti per essere lì alle 5 siamo partiti mi sembra a mezzogiorno da colico ci troviamo sempre a colico no e poi decidevamo che macchina prendere se la mia la tua la sua e tornando indietro la una di notte siamo arrivati in autogrill che erano stanchissimi lui non beveva caffè beva solo te nero e io caffè dopo perché proprio non sapevamo se arrivavamo a casa no 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 siamo siamo fermati all'autogrill quello che fa a ponte sull'autostrada siamo scesi da parte sbagliata pensavamo ci avessero rubato la macchina siamo stati mezz'ora siamo stati mezz'ora come due scemi poi poi si è resi conto che eravamo dall'altra parte però vi portavate a casa tanto entusiasmo è vero? si ma una carica un'energia poi per settimane perché poi avevamo degli scambi con colleghi con Alessandro eccetera quindi si tornava perché poi condividevi le idee magari un'idea timida o un concetto che avevi nella testa lo condividevi e vedevi che piaceva anche ai colleghi quindi ti dava anche la forza di poterlo proporre di poterlo portare avanti e comunque si arriva a casa sei dalla mattina sette dalla mattina e si ricominciava e si ricominciava tante volte si tornava in cucina ecco questo per far capire anche chi ci segue che questo lavoro è affascinante è bello fa felici i turisti gli avventori ma è anche molto faticoso e dietro queste storie meravigliose ci sono anche tanti sacrifici che sono quelli che dovranno fare i ragazzi giovani a cui si rivolge l'associazione Mattias con questo concorso fantastico che vuole premiare le eccellenze ma le vuole premiare proprio per dargli uno stimolo ad andare avanti ad andare oltre a inseguire un sogno è così? è così è così io ti riprendo un attimo perché dico che il nostro lavoro non è un lavoro ma è una passione e io la fatica in cucina non la sento la sento quando mi fanno fare tutt'altro che il cuoco perché purtroppo quando incominciamo a diventare anche oltre che cuochi imprenditori questa cosa a me pesa nonostante io mi sia ingrandito abbia dei ristoranti così ma io voglio stare con la giacca bianca io se sto con la giacca bianca è come per un bambino che lo mette a giocare con la pallettina e la sabbia o come un grande collezionista d'arte che si guarda le sue opere così io penso che nessuno di noi la mattina vada in cucina pensando che si faccia fatica io vado in cucina come penso i miei amici i miei colleghi tutti con un pensiero che è quello di fare qualche cosa per gli altri che però nello stesso tempo ti arricchisce perciò i ragazzi oggi sono il nostro futuro io conto moltissimo sui ragazzi perché oggi i ragazzi hanno un entusiasmo diverso prima giustamente il grande Prandi diceva una volta dovevi rubarlo il lavoro perché proprio c'era questa grande gelosia oggi invece noi abbiamo capito che la grande forza sono i nostri giovani che abbiamo di fianco questi ragazzi che devono crescere questi ragazzi che devono assolutamente prendersi il testimone e portarlo avanti perciò noi dobbiamo incentivare i ragazzi e mai dire che il nostro è un lavoro di sacrificio perché il mio non è un lavoro il nostro è una passione e questa passione va assolutamente trasmessa ai giovani perché i giovani che continuano che decidono di fare questa professione oggi tra l'altro avrebbero mille opportunità per non farla per non fare questa professione io ho fatto questa professione perché sì mi piaceva perché volevo questa cosa ma in primis lo dico perché io volevo scoprire il mondo e essendo di una famiglia normalissima contadina così come facevi nel 1975 a decidere di andare negli Stati Uniti se non eri plurimiliardario dovevi fare o il cuoco o il cameriere se volevi andare a visitare qualche cosa dall'altra parte nel 77 io arrivo con le valise di cartone in America a fare le migrante da lì ti si apre un mondo ti si apre il mondo che è il mondo di questa professione così fantastica dove nella tua vita tutto diventa facile nel punto di vista facile nel senso di dire felice felice di fare questa professione perché guarda qua come siamo qua a raccontarti dopo che siamo stati tutto il giorno in giro dopo che tu ci hai trascinato qui questa sera e ci stai assolutamente facendo tirar fuori tutto quello che abbiamo dentro noi voliamo anche a cena e poi che sarà una cena meravigliosa cioè noi abbiamo nel nostro modo qualche cosa che ci porta sempre a parlare del nostro lavoro siete testimoni e avete anche questo ruolo però dovete trasmetterlo posso anche dire che la ristorazione il turismo cioè l'hotelleria non è fatta solo di cuochi è fatta di tutti gli elementi perché noi dobbiamo fare sistema sistema con chi sta davanti noi che siamo dietro che dobbiamo spingere in un certo modo e creare una rete di cultura ma la cultura non va creata solo e esclusivamente per gli operatori la cultura va creata davvero Masanti per chi viene al ristorante e non lo creiamo con tutte queste app o con questi aggeggi infernali che tutti diventano professori e tutti ci insegnano a dire cosa dobbiamo fare la mattina nelle nostre cucine noi dobbiamo riuscire a far capire a chi viene al ristorante all'hotel alla paninoteca alla pizzeria che noi facciamo lavoro con una grande passione e questa passione non può essere assolutamente messa alla mercè di chiunque io voglio lanciare questo messaggio che ogni giorno per noi è un giorno di grande gioia e basta pochissimo che il castello crolla se ti senti attaccato ingiustamente e per avere i ragazzi che continuino a fare questa professione abbiamo bisogno che qualcuno li spinga gli dobbiamo dare una mano noi ormai abbiamo la corazza siamo un po' dalle tartarughe della ristorazione abbiamo questa corazza che ci protegge ma oggi i giovani hanno bisogno di essere incentivati a essere portati in queste cose ma soprattutto non da noi che gli trasmettiamo la passione ma dagli avventori che arrivano questo in questa trasmissione così democratica voglio lanciare questo appello a chi ci ascolta perché bisogna anche dirlo che la nostra professione è una professione che noi amiamo a 360 gradi e va oltre quello che è la tua vita cioè questo non c'è storia perché abbiamo un maestro davanti a noi che è stato lo Chef Brandi è stato uno dei grandi tracciatori di qualità di questa terra di questo territorio perciò lui è il più grande testimone di questa di questa professione adesso mi fermo per insomma vado avanti e faccio bene è interessante che faccio un inciso quello che dice ovviamente Giancarlo è fascinante però queste località turistiche di montagna a diversità delle città dove io opero per esempio io nella mia via sono un'entità strana perché a fianco c'è il carrozziere che i miei clienti se ne sbatte non gliene frega niente invece nelle località turistiche c'è il gioco di squadra che è più forte è vero che anche a Milano c'è il gioco di squadra però diciamo che la partita del turismo la giocano tutti cioè la partita del cliente la gioca il maestro di sci che non deve farsi vedere un briacco alla discoteca a ballare perché magari c'è il ragazzo che gioca che poi il giorno dopo lo vede e dice ma come è quello briacco poi mi segna a sciare lo gioca al muratore che tornando a casa suona al milanese dice milanese vacca tua perché è lento perché magari in difficoltà sulla neve e questo è una fortuna perché c'è il rischio c'è la fortuna se sono tutti coesi il sistema turistico è un po' una sorta di villaggio no? se io vado nel villaggio il villaggio è quello che alza la sbara e ti dice buongiorno capisci tu direi che è finto però in effetti è un sistema di coesione turistica no? dico bene cioè quindi la partita in queste località di montagna un po' isolate però c'è la fortuna ognuno può fare la sua parte fa la parte insieme deve deve fare la sua parte bene io vorrei chiudere però lanciando lanciando state bene qua benissimo no vorrei lanciare un appello vorrei lanciare un appello comunque anche ad altri professionisti come voi insomma di avvicinarsi a questa stupenda famiglia perché ci saremo anche il prossimo anno assolutamente quindi assolutamente San Rai e Mattia San Rai e Mattia continuerà sempre fin quando avremo la forza di di arrivare per me per noi di salire sul gatto e andare poi ci sarà qualcun altro che salirà al nostro posto però prima di mollare questo questa sediolina dobbiamo essere scotti e stracotti tutti e cinque bene queste sono prenotate per voi anche per l'anno prossimo come lo sarà il concorso? anche questo quest'anno ci sarà l'anno prossimo dove sarà il concorso quest'anno? dovrebbe essere a San Pellegrino stiamo definendo la la polizia bene io vi ringrazio tantissimo per essere venuti qui per aver raccontato questa magnifica esperienza e aver lanciato questi messaggi importanti che sono certa sono arrivati a destinazione siete tutti comunque disinteressati anche da questo territorio nel senso che siete venuti da fuori siete venuti appositamente qui a Livigno per cui anche Livigno ha ricevuto un grande messaggio io ringrazio tantissimo Giancarlo Morelli grazie io ringrazio soprattutto te e soprattutto Livigno perché trovo che questa la chiamerei cittadina della montagna ha qualcosa di molto particolare se ti prende nella rete non ti molla più cioè veramente riescono a metterti dentro io dico complimenti ai Livignaschi si chiamano così scusa non volevo ai Livignaschi perché sono veramente bravi Alessandro? io ho scoperto che il burro si chiama bidul 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 attenzione quindi prossimo anno ci sarà la danza del bidul preparate Stefano noi che veniamo da una terra magica meravigliosa la chiamano la valle dei giusti cosa possiamo aggiungere? tra l'altro voi non sapete ma lei era la mia compagna di banco a scuola chiudiamo qui chiudiamo qui lei sembra molto più giovane lei sembra molto più giovane ma era mia compagna mi ha detto che faceva la giornalista anche a scuola però di questo parleremo dopo grazie Stefano no grazie mille è sempre un piacere venire a Livigno ringrazio Alessandro Gilmozzi grazie di cuore a tutti a Livigno perché è veramente magica grazie anche al maestro Claudio Prandi grazie maestro grazie a voi per l'ospitalità che date e per i Livignaschi mi associo a Giancarlo che veramente hanno una mentalità molto conviviale molto di sentita verso le altre persone e questo abbiamo adarneato veramente contento grazie per l'attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti